Torna l'obbligo della mascherina negli ospedali campani, nei nosocomi, è tornato quindi l'obbligo di indossare le mascherine di protezione in tutti i reparti per chi lavora, per i pazienti e per chi visita persone ricoverate. Sono esclusi dall'obbligo della mascherina i bimbi di meno di 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la mascherina. C'è anche l'obbligo di eseguire il tampone diagnostico per il covid a chi entra nel pronto soccorso ed è affetto da stato febbrile o sintomatologie delle vie respiratorie. Il tampone è invece sempre necessario per i pazienti che sono stati al pronto soccorso e siano poi ricoverati in reparti degli ospedali. Il tampone è anche necessario per i parenti che accedono alle strutture sanitarie per trovare i pazienti. La mascherina di protezione è obbligatoria per chi lavora, per i pazienti visitatori di strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali, di lungo degenza, riabilitativa, strutture residenziali per anziani o persone non autosufficienti, ambulatori e aree assistenziali dei distretti sanitari di base. I numeri del covid restano ampiamente gestibili. C'è un lieve aumento nelle degenze ordinarie ma assolutamente restiamo a zero per la terapia intensiva, ha dichiarato Antonio Possiglione, direttore generale per la tutela della salute e coordinatore del sistema sanitario della Campania, spiegando a Lanza i passi di tutela dal possibile contagio. Le abbiamo applicati, spiega Possiglione, anche in modo un po' più forte rispetto a quelli indicati in due indicazioni alle strutture sanitarie a maggio e agosto per rimanere prudenti.